Una lunga carriera vissuta al servizio dello Stato, prima nella polizia e poi nell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno. Un andriese doc che ha dato lustro alla città attraverso il suo brillante lavoro nelle istituzioni. Lei è la dottoressa Isabella Fusiello, attuale prefetto di Macerata, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria riconosciuta dall'amministrazione comunale. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio nella sala consigliare di Palazzo di Città, nell'ambito delle iniziative in programma per il Festival della Legalità. A fare gli onori di casa, la sindaca Giovanna Bruno. È il primo conferimento di cittadinanza onoraria dell'amministrazione Bruno e non è un caso che si parta proprio con una donna del nostro territorio, della nostra città, Natia di Andria, fortemente legata alla città di Andria, che ha incarnato i valori della legalità, del senso del dovere, in quanto donna dello Stato e quindi con una carriera, con un curriculum davvero notevole, che non le ha fatto assolutamente cancellare le sue origini, la sua umiltà, il suo forte attaccamento a questa terra, per la quale continua, quale sia stato il ruolo che ha ricoperto, continua ad avere sempre una particolare attenzione per la sua Andria. Un onore, un privilegio ricevere oggi questo riconoscimento da parte soprattutto del sindaco della città nella quale io sono nata e vissuta fino a un certo periodo di tempo e quindi devo veramente ringraziare sia il sindaco che il consiglio comunale per avermi onorato di questo riconoscimento. Una vita professionale ricca di incarichi prestigiosi, laureate in giurisprudenza all'Università di Bari, è entrata in polizia nel 1985. È stata prima vicario del questore di Ferrara, poi questore di Reggio Emilia e di Trieste. In seguito ha prestato servizio a Roma, alla segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per poi assumere nuovamente l'incarico di questore a Potenza, Padova e Bologna, dove è rimasta fino a novembre dello scorso anno, quando è stata nominata, con delibera del Consiglio dei Ministri, prefetto di Macerata. Tante tappe in giro per l'Italia, senza mai recidere il legame con la sua città natale. Ovviamente ho ricevuto la mia cultura, le tradizioni qui ad Andrea me le sono sempre portate con me. Ho mantenuto sempre i contatti con le varie associazioni, con i vari amici e soprattutto insomma non voglio dimenticare anche il contributo che ho dato per l'istituzione della questura della BAT che insieme al prefetto Valiante insomma abbiamo cercato di accelerare il lavoro per portarla poi all'inaugurazione nel 2021, quindi il che significa che comunque il mio legame che sarà rafforzato proprio da questo riconoscimento è ancora più forte.